Ciao ragazzi, sono Stefano Etertisigals e quest'oggi vi parlerò di questo aereo long range con camera digitale quindi abbiamo la camera Caddex con il sistema DJI FPV ho testato per lo più il range di tutto questo setup, sono molto soddisfatto però vediamolo in azione e andiamoci a fare un volo con questa bella luce Sistema DJI acceso, canale e il sistema DJI è sbloccato a 1200mW, vediamo un po' come va, via! Forse il lancio più brutto della storia Allora in questo momento sono in navigation 3D si può dire, praticamente mantiene la quota e la prua e sta andando da solo, io non sto toccando assolutamente niente il video è perfetto, siamo a 1,2 km al momento e sto volando praticamente contro sole sul mare Ho uno switch di sicurezza nel caso il video si bloccasse quindi qualsiasi cosa basta armarlo e l'aereo riprenderà a 70 metri di quota e inizierà a tornare indietro Arriverò fino a quel momento perché non voglio tornare indietro prima di capire quando il video frizza quindi praticamente lo lascerò andare adesso tiene una velocità di 60 km orari e siamo arrivati a 1,7 km quindi vediamo dove riusciamo a arrivare lascerò qui una parte del video e vediamo un po' anzi vi faccio vedere direttamente live siamo a 2,2 km e il video è pulitissimo si vede ancora molto bene vediamo dove riusciamo ad arrivare potrei perdere tutto perché queste cose non si sa mai però dai, certe cose bisogna rischiarle vediamo se riesco siamo a una distanza di 3,2 km l'RSE al 99 ancora 3,5 km fino adesso vi dovrò fare il video probabilmente in questa maniera perché non ho messo l'SD negli occhiali quindi praticamente questo è il mio unico modo per testare vediamo se arriviamo ai 4 e vediamo un po' come andrà 4 km passati 4 km e 100 4 minuti che è in volo di batteria abbiamo ancora 3,7 volts è una Leon quindi posso spingermi ancora 5,5 km e dopodiché si è frizzato tutto ho armato il Retour to Home e per un minuto buono non ho visto assolutamente niente quindi ho ipotizzato che tornasse insomma avevo fatto diverse prove del Retour to Home e praticamente sapevo che sarebbe tornato e infatti sta tornando quindi il range è stato di 5,5 km vi ammetto però che avevo già fatto questa prova e l'ultima volta il video era andato via a 3,8 km quindi il mio dubbio forse è che dipende anche dalle condizioni atmosferiche come l'umidità, le nuvole perché credo che il segnale si trasmetta anche in base a questi elementi intanto sta tornando sta a 4 km c'è un po' di vento in faccia quindi è un po' più lento a tornare rispetto ad andare la batteria però è ancora a 3,6 volts sempre la solita Leon da 4000 mAh prodotte da Andrea Farina quindi andate sul sito Farins Frames per vedere le lipo che crea oltre a tutti i droni eccetera eccetera io ho scelto questa zona proprio perché è al di fuori di qualsiasi spazio aereo in mare non ci sono restrizioni non ci sono aree militari o quant'altro quindi se volete fare queste prove mi raccomando fatelo solamente in un ambiente sicuro adesso l'aereo sta tornando e tra poco tornerò per l'atterraggio perfetto volo completato tra parentesi con una luce assurda super golden juicy l'aereo ha risposto molto bene a quello che gli ho chiesto di fare abbiamo fatto 5,5 km con il sistema DJI con la CADAX FPV anche questa la trovate sul sito di Farins Frames e per di più mi ero anche dimenticato che stavo registrando con la GoPro quindi abbiamo anche il footage di questa incredibile missione di 5,5 km allora prima di volare il suggerimento che vi do è fate tutte le prove del Retour to Home perché è un attimo che l'aereo ve lo ritrovate in acqua o ve lo ritrovate da qualche altra parte è molto importante che il GPS cosa che vi consiglio di fare è controllare che i satelliti non li perda perché molti GPS in questo caso io uso questo non mi ricordo neanche di che marca è però vi posso dire che con il Beitan 880 ho perso un aereo il setup che vi consiglio in questo caso è Zod Dart XL che è quest'aereo qui l'Ion da 4000 mAh perché entrano bene all'interno della scocca un GPS affidabile quindi guardate bene le recensioni e vi sconsiglio del tutto il Beitan a parte questo questo è tutto ragazzi spero di rivedervi alla prossima recensione spero soprattutto di non distruggere l'aereo da qui a poco felici voli e godetevi questo tramonto ciao